Corio, evacuata la scuola elementare situata in frazione Benne di Corio, l'azione, compiuta dai vigili del fuoco, è stata causata da una fuga di gas dovuta a una perdita degli impianti dell'edificio. I 56 bambini, che la frequentano sono rimasti in cortile per circa un'ora e poi, quando i tecnici hanno riparato il guasto alle tubature, sono tornati regolarmente in aula. A parte il cattivo odore, nessuno ha riportato conseguenze.